Un caro, carissimo saluto a tutti quanti. Oggi parliamo di Google non per uno ma per due notizie molto recenti che riguardano questa società americana che ovviamente non devo descrivere perché suppongo voi conosciate molto bene. Ora le notizie sono non buonissime devo dire una è parte di una sorta di evoluzione se così vogliamo dire che comunque poi insomma ne parliamo attivamente e la seconda invece è una cosa che purtroppo già si sapeva da mo però si sapeva semplicemente perché era iniziata la causa legale in questione. Partiamo dall'intelligenza artificiale purtroppo ragazzi questo concetto di intelligenza artificiale non è che lo sto scegliendo per includere ogni singolo podcast piuttosto che notizia con infarcendola di intelligenza artificiale però d'altronde queste sono le notizie e d'altronde anche questo è significativo sull'impatto della vita lavorativa soprattutto sulle aziende fortemente che hanno decine di migliaia di dipendenti e che naturalmente hanno un impatto a livello globale così importante e che a loro volta hanno strumenti tecnologici i più evoluti in assoluto eccetera eccetera. Insomma quindi non sto difendendo in questo caso google però è ovvio che all'interno di un concetto evolutivo questa cosa da un certo punto di vista ci può stare cioè di fatto licenzieranno non uno non due ma 30.000 persone sostituendo la forza lavoro con l'intelligenza artificiale. Nello caso specifico poi è legato al reparto vendite pubblicitarie questo perché probabilmente utilizzano tutta una serie di sistemi che automatizzano il lavoro umano e praticamente probabilmente predispongono determinate situazioni ottimali per poter piazzare quello che sono fruttuosamente diciamo così il loro marketing distribuito o come cazzo vogliono loro che non so cosa sia ma comunque faranno quello che devono fare. Ora apro due parentesi che sono assolutamente molto importanti legate a questo argomento che ripeto abbiamo già trattato varie volte in varie circostanze ovviamente non felici perché è ovvio che se tu sei un dipendente google che ti ritrovi a dire guarda ciao ovviamente non puoi essere felice però ci sono come dico sempre una serie di lavori che necessariamente tante serie di lavori secondo me che necessariamente devono portare le persone ad evolversi da un certo punto di vista e parlo proprio di evoluzione io vorrei trattare forse tratterò con dei podcast ad hoc ma probabilmente su un canale ad hoc su un canale lavoro che vorrei fare specifico per questo argomento perché è un argomento sul quale tengo veramente tanto ma più che altro perché osservo il mondo del lavoro e di come si sta da un certo punto di vista trasformando e di cui tante persone se ne sbattono vi faccio questo esempio perché tante persone hanno una laurea hanno fatto i 20 anni 30 anni di lavoro all'interno delle aziende e dicono ma a me non me ne frega un cazzo di imparare cose nuove io ho imparato queste me ne sbatto il cazzo io porto questo esempio da un certo punto di vista ma per farvi capire nel senso che per dirvi mia madre è ex insegnante lei che con il computer fa quello che può anzi ha imparato tantissimo ha uno smartphone fa quello che può eccetera eccetera però ricordo i momenti di grande disagio per lei dove lei diceva ma io sono laureata io insegno una materia eccetera eccetera perché devo imparare l'uso di un computer io odio il computer difenza mia io non voglio dover imparare eccetera 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 questa cosa che ripeto prendo come esempio e io capisco da un certo punto di vista il suo disagio perché è un po' come se da un certo punto di vista qualcuno arrivasse da voi e vi dicesse ok fino adesso voi avete scritto con la biro tutti vi hanno insegnato che a scuola dovete usare la biro questi sono i fogli ad un certo punto arrivate dovete utilizzare qualcosa che non avete mai dovete usare i piedi e voi non l'avete mai fatto non sapete come scrivere con i piedi non sapete come posizionarvi eccetera eccetera per voi questa cosa qua è assurda senza senso eccetera eccetera però questa è un'ottica signori nella quale tutti quanti ci dobbiamo mettere soprattutto che siamo giovani o meno giovani questo messaggio vale per tutti fino a quando queste persone noi tutti facciamo parte del mondo del lavoro ed impariamo il concetto di evoluzione ok che non è necessariamente una cosa drastica e non è necessariamente una cosa triste io quello che vorrei fare anche ripeto con un canale ad hoc è lavorare imparare e divertirsi che secondo me sono tre associazioni che devono sempre esserci affinché una persona sia felice ovvio che l'ambiente all'interno del quale voi siete i colleghi il tipo di lavoro è fondamentale ma anche fare un lavoro che diverte secondo me tutti i lavori possono divertire tutti non ce n'è uno escluso tutti ma il problema è che magari mancano degli strumenti ci sono dei lavori che si utilizzano come si faceva cent'anni fa e quindi fa schifo dei lavori sono usuranti, dei lavori sono alienanti eccetera eccetera quindi non è che io dico l'intelligenza artificiale cattiva devi tenere le persone perché è ovvio che l'esempio è sempre il classico c'è il trattore che ha sostituito centinaia di braccianti nei campi è meglio il trattore? era meglio i braccianti? per le famiglie dei braccianti non sarà stata una cosa comoda né pratica né bella ma l'evoluzione attraversa anche questo tipo di campo quindi le persone devono imparare ad essere sul territorio non qualcosa di passivo è giusto, giustissimo lamentarsi della mancanza del lavoro ed è giusto e sacrosanto lamentarsi in generale perché io sono uno che ama lamentarsi però dall'altra parte ci si deve rimboccare le maniche capire in che ambiti ci si può evolvere in che ambiti ci si può imparare qualcosa di nuovo dove il mondo va anche in modo di prospettiva perché secondo me ci sono centinaia di lavori che magari cambia il modo di approcciarsi a questo tipo di lavoro ma non si esaurisce questo tipo di lavoro quindi a volte ci vuole creatività a volte bisogna sbattersi signori chi sceglie di non sbattersi poi non può sinceramente lamentarsi che non trova lavoro, faccio fatica eccetera eccetera purtroppo il mondo del lavoro è sbattimento? certo, però i risultati arrivano per chi ha fede in se stessi e nel cercare di trovare nuove prospettive quindi non volevo fare un pippone inutile sul fatto di questi 30.000 licenziamenti però è ovvio che l'intelligenza artificiale che vogliamo chiamare tale ma si può chiamare automatismo in cento altri modi diversi va e andrà a sostituire tutti quei lavori che in qualche modo umanamente vengono svolti e vengono fatti io ricordo per esempio quando mi sono occupato di AdWords di Google che naturalmente io lo dovevo fare per dei clienti ma è una roba complicatissima come logiche e per quanto gli strumenti siano a disposizione e probabilmente in futuro saranno completamente automatizzati quindi l'AdWords magari io l'ho fatto più di 10, 11 anni fa più o meno adesso immagino che sarà totalmente diverso però ricordo che nel caso di investimenti di un certo livello avevamo degli assistenti di Google che ci aiutavano a fare questo lavoro al posto nostro perché comunque posizionare migliaia di euro in investimenti sbagliati all'interno dell'AdWords voleva dire bruciare del denaro inutilmente in campagne di marketing inefficienti magari queste cose qua adesso sono state fatte adesso io faccio questo esempio da sistemi automatizzati che capiscono dove vanno utilizzati nel modo giusto potrebbe anche essere però ricordo appunto che questa cosa veniva fatta al lato umano e questa cosa vedremo in futuro come tutte queste cose qua porteranno ad esserci miglioramenti oppure peggioramenti o quello che è però come dico sempre ci sono tutti i lavori tutti i lavori manuali delle persone che spostano pacchi sono dei lavori che andranno a morire ricordate ve lo dico le persone controlleranno macchine che fanno questo lavoro ma noi esseri umani non siamo nati per spostare pacchi quindi quello che vedete che sposta il pacco domani non esisterà più e non ci sarà non mi aspettavo è normale che sia così perché si tratta di evoluzione si tratta che le persone lavoreranno facendo usando il cervello monitorando controllando usando la propria fantasia che io dico sempre nel lavoro è una delle cose più importanti che possono anche nel lavoro più meccanico la fantasia è quella che fra dieci problemi ti fa inventare la soluzione che non ti aspettavi perché non era la più logica però riemerge dalla tua fantasia che poteva essere quindi la creatività e cose di questo tipo sono fondamentali poi il domani del domani sarà che nessun lavoro avrà un umano e staremo tutti in panciolle o moriremo tutti che vi devo dire comunque chiusa la parentesi post apocalittica che era partita con una notizia come sempre finita con un megatrip parliamo invece della seconda nota di google che invece riguarda un caso giudiziario perché io in altri video avevo parlato del fatto della famosa modalità incognito di google che di fatto non era del tutto vero che non monitorava le attività e google ha sempre detto attenzione la modalità in incognito non registra l'attività del dispositivo però resta il fatto che sono riusciti a scoprire che in realtà ci fosse modo ci fosse una sorta di tracciamento sull'attività invece degli utenti addirittura questo permetteva naturalmente poi di rivendere degli annunci o naturalmente di sapere quello che effettivamente veniva fatto morale della favola per questi milioni di persone e per questo errore di google si è arrivati quasi a stimare una sorta di multa da 5.000 dollari per ogni utente quindi immaginatevi 5.000 dollari moltiplicato per milioni di utenti e soprattutto valutandola che lo stanno praticamente la causa e il periodo interessato è dal 2016 ad oggi parliamo di miliardi di dollari per l'azienda di google quindi una cosa abbastanza importante ora come sapete la modalità in incognito sinceramente come funziona adesso se adesso oggi non tracci più non ve lo so francamente dire è una modalità che comunque viene utilizzata sicuramente non finisce questo ve lo dico se avete paura che ci sia qualcuno in casa che dopo guardi le vostre le vostre attività comunque non finisce nella rubrica non finisce insomma nelle vostre pagine visitate quindi sappiate questo però è ovvio che attenzione non fatelo comunque a prescindere nelle aziende perché tutto il tracciamento dai flusso di dati passa attraverso vari strumenti se le aziende ovviamente li attivano cosa molto importante che magari non sapete ma è importante ve lo dico io se non lo sapete ricordatevi che ciò che voi fate in azienda è dell'azienda questo lo dico perché tanti hanno la il pensiero che ci sia la privacy ma la tua privacy riguarda i tuoi beni il tuo cellulare la tua vita personale che è una cosa e si chiama privacy ma nel momento in cui un'azienda ti dà uno strumento per lavorare e lo strumento è atto al lavoro nel momento in cui tu fai i cazzi tuoi magari l'azienda ti permette di farli ma sappi sappi che comunque sei tracciato quindi se qualcuno sa le tue mail aziendali sono dell'azienda il fatto che tu vada a visitare quello che vuoi visitare che non sia legato all'azienda l'azienda queste cose le può scoprire e sappiate che ci possono essere dei casini quindi state sempre molto attenti quando fate queste cose sbagliando all'interno di un'azienda perché potreste incorrere in problematiche quindi anche quello è molto importante bene abbiamo credo sì erano queste le due notizie di cui vi volevo parlare io come sempre vi ringrazio alla grandissimissima io signori è l'ultimo giorno dell'anno ufficialmente almeno per quando vedrete questo video quindi io ci tengo a ringraziare tutti tutte le centinaia di persone che si sono iscritte al mio canale da quando nacque ad oggi che ormai sono anche se il canale nasce molto 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 tempo fa ma diciamo che l'attività è partita più o meno dal 2019 quindi sono molto felice di questo io sicuramente l'anno prossimo puntiamo ai mille che dovrebbe essere un obiettivo non neanche troppo difficile ovviamente sto facendo le corno magari diventa difficilissimo però ovviamente con i mille e con le 3000 visualizzazioni del canale le 3000 ore scusate del canale potrebbe esserci insomma un bel po' di step avanti per tutti quanti quindi speriamo che questa cosa avvenga vedremo insieme io vi faccio ovviamente i migliori auguri per un anno super mega iper top e basta tutto qui io vi invito ad iscrivervi qualora non l'abbiate fatto alla prossima ciao ciao